Il catalogo 2024 di Leroy Merlin offre numerose soluzioni per arredare la cucina in maniera pratica funzionale ed economica. Tra le novità ci sono vari modelli di cucine componibili e tanti accessori per organizzare i pensili e i cassetti. Le serie spring, luna, one ed elina id di cucine componibili proposte dall'Eroi Merlin hanno stili diversi per soddisfare ogni tipo di gusto ed esigenza dalla casa vacanza alla cucina in una veranda o taverna. Oltre alle cucine l'Eroi Merlin offre soluzioni per personalizzare altre parti della cucina dal pannello retro cucina disponibile in vetro temperato o alluminio, ai tavoli e sedie, fino a sgabbelli alti e set completi di tavolo e sedie. Per organizzare al meglio la cucina l'Eroi Merlin propone una vasta scelta di accessori, da spezie, barre, ganci, magneti, a strumenti per lo scolapiatti e come struttura estraibile che può fungere sia da piano lavoro che da tavolo da pranzo.